che video dobbiamo guardare tag non saprei isaac dove sei? non c'è il copyright sicuro? su idiotbox non c'è? no no non dovrebbe succed... no 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 ma perchè io tengo una mano che punta qualcosa? aaaaaa prenditi questo popcorn eeeh nyeh eeeh oggi è comparsa una persona sono io eeeh andiamo andiamo in bagno ok va bene indie vieni con noi prima del film devo pisciare to 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 scusate lasciatemi in privato eh perchè mi arrivano palatine mentre sto pisciando scusate perchè vedo un popcorn che mi attraversa la porta? non lo so ma perchè? allora scegliamo un bel teatro dove sei? dove sei? dove sei? la ciao 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 andiamo ok andiamo andiamo nel teatro numero 2 non è un po' troppo grande nooo ok andiamo in quello piccolo no andiamo in quello grande ma andate a fare il cucciolo? oh no abbiamo un po' di gente dentro c'è Zayn Krinthia chiudiamo chiudiamo la porta a caso a caso a brum cosa? a brumbo perchè indie uscire fuori? il mio grande sogno è di poter dichiarare un giorno a tutto il mondo sono diventato grand maestro massone lo sapevamo già che cazzo è? questo i video mi piacciono che cazzo fatto? cos'ha sto cavallo? il morbo di Parkinson E' ok E' ok E' un po' di questo gatto E' un po' di questo gatto T'ho chiamato un esorcista Tre! Ho che cane ambulanza eh I gatti Il gatto strega E' una formula magica Scappa Isaac scappa Ecco lancia popolo Ha detto I don't care Non, 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 non Aiuto Ecco questo altro rega Qualche ultrasuono Messaggio clippato Tutti insieme Salul Eh? Salul Questo testo ci sa benissimo Bene ragazzi Spero che vi sia piaciuto questo video molto random Se ne volete altri di questo tipo di random games Mettete mi piace e consigliatemi cosa fare E che vi posso dire da Atac19 è tutto Ciao a tutti Aspetta 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 Guarda questi cani che giocano a poker Adesso vado anche io con loro Vado Ehi 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 No Hai capito Ma what? Dove sono caduto? Buon appetito Ciao a tutti No 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 Grazie a tutti.